Una città che è cambiata molto negli anni, una città dalle mille contraddizioni ma aperta al progresso e al cambiamento. E con la consapevolezza di averci messo l'anima, ma soprattutto la faccia, che il sindaco Roberto Montà, al termine di dieci anni alla guida della città di Grugliasco, ha tracciato un bilancio complessivo a pochi giorni dalle festività natalizie. Due mandati che nel concreto delle azioni intraprese si traducono in nuove infrastrutture importanti, riqualificazioni di intere aree della città, nuove scuole e una grande vocazione all'alta formazione con il progetto ormai partito del nuovo polo delle discipline scientifiche. Con orgoglio e con ancora 500 milioni di investimenti in corso tra pubblici e privati, il primo cittadino si appresta a cedere le chiavi di una città che, da periferia della metropoli di Torino, si rivela sempre più centrale nei processi di crescita e sviluppo del territorio. Io fra dieci e quindici anni, da privato cittadino, potrò raccontare a mia figlia che la città cambia ed è cambiata grazie a scelte, al lavoro di suo papà e delle persone che erano con lui. Pensiamo al tema dell'università, alla riqualificazione dell'ex OP, piuttosto che a scelte importanti, come il recupero dell'ex Cascina Romano, il grande investimento sulle scuole. Ho inaugurato quattro scuole nel mio mandato, quindi a dimostrazione del fatto che c'è un investimento importante che in qualche modo segna il futuro della città oltre la vita dell'amministrazione. Penso di lasciare una città a posto, che sarà migliore da un punto di vista delle prospettive di sviluppo, ma che dovrà gestire la grande fatica legata al post-Covid e ai cambiamenti nell'economia e nella società connessi al Covid. Pensiamo a tutto il tema della logistica connesso allo sviluppo della TAV, alla rigenerazione e alla riqualificazione di sito. Quindi ci sono delle prospettive di sviluppo che si stanno aprendo e che la prossima amministrazione avrà la responsabilità di portare avanti. Oltre 20 anni di politica al servizio del territorio, di cui gli ultimi 10 con in mano le redini di una città di quasi 40.000 abitanti, un territorio vasto e dalle esigenze variegate. Roberto Montà, forte delle competenze maturate sul campo, si è detto disponibile a mettere le sue capacità al servizio del Paese e della coalizione, il centro-sinistra, che negli anni lo ha sostenuto. Io sono a disposizione di tutti coloro i quali sono all'interno delle istituzioni, sono a disposizione del territorio per quello che ho fatto e che so fare. Io spero che a gennaio il centro-sinistra abbia un candidato unitario e che parta una campagna elettorale, producendo nella continuità la discontinuità. Io sono il primo alfiere della discontinuità. Bisogna avere la capacità di analizzare i limiti dell'azione amministrativa e di produrre da subito proposte, idee e innovazioni, perché quello che noi stiamo facendo oggi è la fotografia e un disegno di cinque anni fa. Bisogna avere la capacità di riadeguarlo e il compito della politica è quello di immaginare come sarà Grugliasco nel 2030 e questo penso che noi abbiamo le persone adeguate a farlo.